Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento con BuzzTalks. BuzzTalks, come sapete, è ormai questa serie di appuntamenti che Basul ha deciso di dedicare all'approfondimento dei temi della comunicazione e del marketing in questo particolare periodo in cui siamo un po' più portati, probabilmente del solito, a riflettere su nuove tematiche. Oggi parliamo di una tematica nuova, interessante, tutta da scoprire e da approfondire, che è quella dei social CEO. Oggi capiremo un po' meglio cos'è un social CEO con due ospiti gratitissimi, due amici che sono con me, Stefano Chiarazzo e Renato Sciarrillo. Ciao! Ciao, buongiorno Vincenzo! Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. Stefano Chiarazzo è Digital Reputation Advisor, nonché autore di un libro dal titolo Social CEO, da cui prende avvio questa diretta. Renato Sciarrillo invece è Government Relations and GDPR Leader di P&G Procter & Gamble Italia. Io partirei subito da Stefano per chiedergli un po' di farci capire come mai hai scritto questo libro incentrato sul concetto di social CEO e che cos'è un social CEO oggi. Poi entriamo più nel dettaglio. Allora, guarda, io l'ho scritto perché effettivamente uno dei, quando si chiede quali sono i trend, c'è qualche problema, legati all'esposizione del management sul digitale. È proprio parte di quella che è la trasformazione digitale che sta investendo ovviamente tutti i campi e ovviamente anche la comunicazione. Social CEO non significa, come in molti possono pensare, non è direttamente legato alle piattaforme social media, quindi non si parla direttamente di Facebook, Twitter, LinkedIn. In realtà social CEO è più quel top manager che, diciamo, è in grado di guadagnarsi ogni giorno sul mercato, all'interno di tutte le comunità in cui opera, quello che è lo status di social leader. Social leader è chi di fatto sa rispondere sempre meglio alle tante aspettative sempre maggiori degli stakeholder che hanno a a che vedere appunto col benessere presente ma anche futuro, e in questi giorni appunto lo stiamo vivendo veramente in maniera molto molto forte, il futuro appunto delle persone ma anche dell'ambiente. Di conseguenza parlavo appunto dell'esposizione dei manager, i manager sono visti sempre di più come dei punti di riferimento, anche per capire un po' il mondo attuale, capire dove sta andando il mondo futuro e quindi un'esposizione sul digitale, un po' più in generale, quindi senza parlare direttamente di social media, è sicuramente una modalità per riuscire a raggiungere appunto tutti i pubblici di riferimento che ovviamente non sono solo i pubblici esterni ma anche gli stessi pubblici interni, quindi anche i dipendenti ascoltano appunto i propri top manager, come dei leader effettivamente, anche da un punto di vista valoriale e del cosiddetto purpose, quindi sostanzialmente quell'impegno quotidiano che si testimonia proprio con le proprie azioni, con quello che si dice nei confronti appunto delle persone dell'ambiente, anche attraverso le piattaforme digitali. Quindi se vuoi più tardi magari parliamo di un po' di profili magari di social CEO, non ce ne sono ancora tantissimi in Italia, però già si delineano una serie di profili. Faccio una panoramica dello Stato, insomma, dei social CEO nel mondo, ma anche in Italia e se ci appunto fai dei casi di successo da seguire e ci dici anche quali sono le caratteristiche, così inquadriamo un po' meglio questa figura. Vincenzo, non ti sento. Prova magari, Stefano, prova magari a riconnetterti. Se provi a riconnetterti, intanto io vado avanti con Renato. Forse c'è qualche problema di linea. Buongiorno, ti sento benissimo. Sì, Renato, io passo a te proprio perché tu hai, insomma, della tua carriera in Procter and Gamble seguito almeno quattro, se non vado errato, amministratori delegati nel loro processo, diciamo, di comunicazione, le loro attività di comunicazione all'interno e all'esterno. Ecco, ti volevo chiedere quali sono le, insomma, le difficoltà più grandi che un manager che è abituato più a pensare agli obiettivi di business, comunque al business quotidiano, ha nell'affrontare appunto la comunicazione. Beh, sì, in effetti l'aver avuto l'opportunità di confrontarsi con diversi stili di management e con interlocutori, mano a mano appunto si sono avvicendati in Procter in Italia, alla guida dell'organizzazione, mi ha dato la possibilità anche di capire un po' meglio i diversi approcci, i diversi stili, i diversi personalità. Allora, chiaramente per un'industria, un'azienda managerializzata, per cui strutturata anche su un piano sia nazionale che internazionale, una delle maggiori difficoltà iniziali è aiutare nel percorso di familiarizzazione con le interlocuzioni di uno stakeholder diversi. da immaginare soprattutto manager che sono stati abituati al proprio percorso di carriera soprattutto a dialogare, a confrontarsi, interloquire in maniera efficace rispetto a una platea interna o di fornitori o di strutture interlocutori vicine alla realtà aziendale, che per il ruolo della responsabilità che vanno a rivestire nel momento in cui vanno a ricoprire un incarico di carattere apicale, si trovano a dover capire i meccanismi, i linguaggi e le modalità di interlocuzione con pubblici molto diversi, quindi dall'interlocutore di carattere più istituzionale o piuttosto le comunità locali, i media e nel caso che giustamente evidenziamo a Stefano prima, di cui parliamo specificamente quest'oggi, il ripensare al proprio ruolo nell'ambito dei social media, in cui naturalmente la dinamica interlocuzione e dialogo personale rispetto al ruolo in azienda ancora più si enfatizza. Quindi tu hai notato in questi anni una maggiore propensione verso la comunicazione attraverso i social, oppure c'è sempre comunque una sorta di ritrosia, perché come ci accennava Stefano, non è che tutti i manager comunicano attraverso i social media, quindi c'è sempre un po' una barriera ancora forse. Soprattutto direi, mano a mano che le generazioni si avvicendano, la sfida che vedo è imparare a rivestire un nuovo ruolo nell'ambito dei social media. Tutti noi ormai siamo completamente immersi, utilizziamo intensivamente queste nuove piattaforme per una serie di obiettivi professionali e personali che attengono però ovviamente alla propria sfera individuale. Raggiungere un ruolo apicale significa utilizzare soprattutto alcune piattaforme, non soltanto e non esclusivamente per il proprio messaggio personale, ma per rappresentare una collettività che in quel momento si riconosce e parla attraverso il proprio leader. Certo. Stefano, forse ancora ha delle difficoltà, quindi magari continuo con te a chiederti qualche cosa rispetto al tuo ruolo. Forse una delle difficoltà che oggi hanno i leader nella loro comunicazione, anche quando si tratta di una comunicazione sui social, è quella di bilanciare un po' quella che è l'equity aziendale con l'equity personale. Come si può riuscire in questo, Renaldo? Coglio un punto che è sempre stato valido, ma che è ancora più particolarmente enfatizzato dalla peculiarità del social media. È chiaro ed evidente che lo stile, l'impronta personale, le caratteristiche, ma anche il particolare di propensione dell'individuo sono una componente della propria modalità di leadership e sono state, ed è utile utilizzarle nell'ambito di comunicazione aziendale. Quello che succede nell'ambito social media è che chiaramente la comunicazione è ancora più estremamente personalizzata, soprattutto dal lato del mittente. Lo vediamo in politica, in cui probabilmente l'enfatizzazione è ancora più importante, in cui il leader riveste una importanza decisiva, in cui anche il successo politico si determina e probabilmente anche si scioglie nel momento in cui i follower aumentano le interazioni o le interazioni diminuiscono. Ognuno di noi quasi vota nel momento in cui sceglie di seguire o interagire con un determinato interlocutore. In ambito aziendale sicuramente è ancora più più evidente. Sono molti i casi, peraltro Stefano ne analizza alcuni, in cui la capacità, la leadership, il carisma personale del leader hanno addirittura prevalso sulla comunicazione e sull'immagine dell'azienda, quasi schiacciandola. Spesso Stefano carinamente l'ha citato nel suo libro, una frase un pochino forse estremamente caratterizzata, ma come dire i leader passano ma le imprese restano. Il leader è funzionale a costruire un'immagine, può essere funzionale a costruire un'immagine, un equity, una percezione e una comunicazione di un'azienda e sicuramente è determinante in questa fase in cui appunto il social media sta prendendo sempre più prete e più importanza nella comunicazione aziendale nel imprimere una spinta, una credibilità e una pervasività ulteriore. Bisogna stare attenti al bilanciamento in cui appunto la personalità dell'individuo sia funzionale ma non schiacci la percezione dell'azienda. Stefano allora ci fai qualche caso di social CEO che riesce bene insomma a bilanciare o comunque fa un uso proprio dei nuovi mezzi di comunicazione social? Scusa puoi ripetere per favore Vincenzo? Ti chiedevo se ci fai qualche esempio di social CEO mondiale italiano più interessante. Sì, allora devo dirti lo scenario italiano in particolare in questo periodo sta mostrando proprio quelli che sono i leader tra i social leader, quindi ci sono varie tipologie di approcci sui social media. Sicuramente ci sono approcci un pochettino più istituzionali, mi viene in mente Corrado Passera che anche un po' per il trascorso politico ha uno stile anche di comunicazione un po' più istituzionale e giusto per farvi dei numeri perché è interessante anche vedere il lato influencer e che è caro anche a Bazool. Quindi Passera per esempio ha 51.000 follower su Twitter che lo seguono sicuramente anche dai tempi appunto dei suoi trascorsi politici però effettivamente anche in questo periodo un po' più di crisi, un po' più di emergenza è stato tra i leader che definirei first mover, sono stati tra i primi a comunicare anche appunto nel periodo di emergenza e l'ha fatto anche cercando di dare una sua lettura del momento e andando a raccontare appunto un po' come dicevo all'inizio quella che è la sua visione del mondo che sta cambiando, si parla di new normality. Non so cosa possa voler dire, non lo sappiamo ancora, sicuramente stiamo cambiando e arriveremo a una nuova fase, chiamiamola la fase 3, dove appunto tutto cambierà. Quindi effettivamente sì, un approccio istituzionale però sicuramente anche molto visionario. Un altro approccio che invece possiamo vederlo diametralmente opposto è un po' l'approccio della celebrity, dove per celebrity ci sono appunto dei propri magari un pochettino più informali, mi viene da pensare a Urbano Cairo che anche un po' per il business che guida, quindi parliamo di editoria e parliamo anche di sport essendo presidente del Torino, spesso appunto posta immagini di se stesso appunto con delle altre celebrity che sono appunto del mondo dello spettacolo o del mondo dello sport. Cairo usa come piattaforma principale per esempio Instagram, che è un po' se vogliamo già la piattaforma appunto visuale dell'informalità, quindi anche postando anche contenuti di vita personale, quindi al di là del business. Invece un approccio celebrity, ma realmente celebrity che è quella per esempio di Remo Ruffini di Montclair, dove effettivamente il racconto è anche un po' un racconto del lusso, della vita anche comunque effettivamente aspirazionale che un top manager può avere. Rispetto diciamo a questi due profili poi ce n'è un terzo che è quello invece dell'opinion leader, che è quello che forse un po' più rientra in quello che è la costruzione della social leadership attraverso i social media, mi viene da pensare per esempio a Francesco Starace di Enel, che in particolare su Twitter, diciamo rispetto a molti leader che magari comunicano, magari interagiscono meno, in realtà Starace appunto non solo interagisce, ma parla di tematiche o rilancia tematiche, si espone su tematiche che non sono direttamente, sempre direttamente legate al business che guida. Quindi sono legate comunque a tematiche sociali, ambientali e che lo pongono appunto rispetto ai pubblici in un punto di movimento, come un render. E quindi ecco questo è un altro stile. Per esempio appunto Francesco Starace, giusto per dare un po' di numeri, ecco prima non ho detto magari su Instagram, Remo Ruffini è il top leader diciamo per follower, con 52.000 follower su Instagram, mentre invece per esempio Starace ne ha 33.000 su LinkedIn. Quindi appunto parliamo di numeri estremamente interessanti, quindi non è, non la possiamo, è difficile definirla proprio una vera e propria nicchia. L'ultimo profilo che mi piacerebbe segnalarvi è quello invece dell'iperconnesso, cioè quello che magari non va a scegliere come abbiamo visto finora magari una piattaforma principale, una o due piattaforme principali magari corporate come possono essere LinkedIn o Twitter o informali come può essere Instagram, ma comunicano multipiattaforma. Multipiattaforma e anche con una frequenza alta dell'applicazione. Qui per esempio appunto di anche velocità, anche di informalità, pur parlando magari di temi anche istituzionali è Nero Alessandri di Tecnogym. Quindi ecco giusto per darvi un pochettino una panoramica. Diciamo che se poi vogliamo andare a incasellare ecco rispetto al periodo che stiamo vivendo, possiamo andare un pochettino anche a posizionare, se ci immaginiamo, due assi di una possibile mappatura. Sicuramente su un asse possiamo mettere quelli che sono stati i first mover, che sono chiaramente magari hanno reagito subito al momento e quindi hanno raccontato subito il loro punto di vista e quello che avrebbero fatto appunto per le persone, per le comunità e soprattutto per la continuità del business. Altri invece che sono stati, se vogliamo, un pochettino più guardinghi, li chiameremo anche follower per intenderci, che diciamo hanno aspettato un po' perché il dubbio da parte di tutti, anche nella comunicazione che è un po' più aziendale, quindi non dai profili del manager ma più a 160 gradi è comunichiamo, non comunichiamo, continuiamo a fare pubblicità, per esempio. Quindi queste sono state domande a cui magari c'è stato chi ha risposto più velocemente, ha agito più velocemente, c'è stato invece chi ci ha messo magari un pochettino più di tempo. Il secondo asse di cui parlavo invece è dato un po' più dalla tipologia del contenuto. Quindi se vogliamo possiamo dividere, chiaramente molti manager, tutti i manager, la maggior parte dei manager, facevano coesistere un po' queste due aree, diciamo, della comunicazione, dei messaggi di comunicazione. C'è la parte di solidarietà, quindi legata anche banalmente alle donazioni, no? Che sono state fatte anche per... le comunità in cui... e dalla parte un po' più di assicurazione di tutti gli stessi sul lavoro, per esempio, l'unità appunto del business. Perché è importante anche la continuità, comuna sia a tutti i pubblici, che possono essere i dipenti, ma possono essere appunto anche i consumatori. Ecco, abbiamo avuto un po' di difficoltà alla fine, ma comunque si è compreso anche questo secondo asse di cui parlavi. Una cosa che mi viene in mente, che abbiamo visto anche in questo periodo, anche con personaggi che tu hai citato, il confine tra l'esposizione online è una possibilità possibile crisi aziendale o di crisi di comunicazione, meglio, è abbastanza labile, quindi si sta sempre un po' lì sul chi vive per evitare questo tipo di situazione, anche perché in rete poi, diciamo, il troll è dietro l'angolo, no? Quindi come si fa in qualche modo a comunicare cercando di non poi arrivare ad una situazione di crisi? Lo chiedo a entrambi, a Renato se gli è capitato, poi a Stefano se ha dei casi particolari. Sì, naturalmente la vero presunta disintermediazione nella comunicazione social espone in maniera più diretta, senz'altro, al feedback immediato che può essere positivo o negativo e anche in questo senso, come giustamente diceva poc'anzi Stefano, la scelta degli argomenti e delle piattaforme può essere determinante. Ma alla fine il feedback è prezioso, prezioso sempre e comunque, che poi si possa tradurre in un trollo piuttosto che in una critica anche esacerbata, piuttosto che in un endorsement convinto, certamente è comunque un'occasione preziosa per avere una risposta e la risposta guida sempre un messaggio, no? Cioè meglio la risposta che non essere proprio considerati, diciamo che... No, infatti, no, te lo dico perché ovviamente come saprai benissimo nella tua esperienza e poi nel momento in cui arriva una risposta anche un po' magari critica e soprattutto i manager a livelli apicali sono sempre molto agitati, no? Quindi bisogna anche poi gestire lo stato d'animo. L'educazione al feedback, positivo e negativo, è sempre preziosa per tutti. Io non dimenticherò mai un episodio che fatalmente evidenzia a lunghezza il mio percorso professionale, si parla degli esordi di Facebook in cui andiamo con una campagna relativamente alle vaccinazioni nei paesi del terzo mondo contro il teta, no? Su una campagna istituzionale in cui in poco meno di un'ora arrivarono decine di migliaia di commenti relativi appunto al tema che insomma sulla rete è sempre stato piuttosto caldo ma che all'epoca insomma cominciava a emergere per cui ci colza anche abbastanza di sorpresa. Fu un'occasione preziosa anche di imparare da quel feedback così violento e immediato su come impostare la comunicazione e penso che insomma sia stata anche un'occasione learning unica in questo senso, unica da tanti punti di vista, no? Stefano ci sono appunto delle accortezze per evitare lo scontro? Ci sono social CEO nella tua esperienza che invece questo scontro un po' lo cercano? Che un po' lo cercano? Vabbè, diciamo che c'è sempre un po' il discorso del bene o male purché se ne parli, c'è sempre un po' il discorso anche dell'emergere un po' dell'ego anche, no? Della, chiamiamola della celebrity rispetto magari alle posizioni che altri opinion leader magari dei propri competitor anche da un punto di vista intellettuale possono avere, no? Quindi diciamo che ci sono effettivamente anche dei leader un pochettino più fumantini che entrando magari nelle conversazioni in maniera un po' più diretta possono anche creare un po' di problemi, no? Anche ai propri tipi di comunicazione. Dire ad oggi non ci sono stati dei grandissimi casi, cioè ho citato per esempio il appunto Cairo o Nero Alessandri di Tecnogim, comunque hanno avuto anche uno con un video, uno invece con un post su Linkedin, hanno preso una posizione che comunque in questo periodo anche un po' diviso, no? E quindi creando anche delle piccole polemiche. Quello che penso è che comunque ci sono un pochettino anche i due fronti da tenere in considerazione. Allora, da un lato il fatto che è sempre importante riuscire a escare delle conversazioni che poi aiutino tutta la community anche a ragionare su tematiche importanti. Dall'altra parte il considerare che il manager comunque è un brand, è da considerare un brand guardian. Quindi deve difendere quella che è la reputazione, quella che è l'immagine della propria azienda. Quindi bisogna stare un pochettino anche attenti a quello che si va a dire perché come uno in fronte di me, creare la propria reputazione ci vogliono anni, distruggevano pochissimi secondi. Certo. Renato, secondo te ci può essere un social CEO che dietro non ha un supporto, una sorta di coaching da parte di un comunicatore professionista come può essere tu, come le persone che rivestono il tuo ruolo? La risposta non può che essere interessata, ma proverò a essere scevolo da conflitti di interesse personali o comunque della professione. Penso che indubbiamente per le caratteristiche, la complessità e le difficoltà, le sfide, i challenge e le opportunità legate anche a questa particolare modalità di comunicazione chiamino in realtà la comunità professionale, dei comunicatori, di chi della comunicazione aziendale ha fatto la propria professione e la propria vocazione, ha un salto ulteriore di qualità perché le opportunità sono enormi, lo scenario è in continua evoluzione, l'approfondimento continuo e necessario è l'aggiornamento quotidiano, per cui secondo me al di là delle doti naturali e propensione personale del CEO, l'affiancamento di figure professionali dedicate, focalizzate ed esperte e che sappiano anche guardare in prospettiva, avendo ben presente la piattaforma strategica, il proprio messaggio, il posizionamento che si desidera dare alla comunicazione da parte del CEO nell'ambito del complesso della strategia aziendale è indubbiamente necessario, anzi rimane ancora più forte e enfatizzato. Secondo me Stefano con il suo libro ha centrato un punto nodale e lo chiamo sin da ora a pensare alla versione 2.0 del suo manuale, perché sicuramente è una discussione che va avanti da decenni, il ruolo del CEO rispetto al posizionamento aziendale. In questa fase è ancora più delicato da approfondire e da aggiornare e chiama la comunità professionale dei comunicatori a nuove sfide e sapersi anche ripensare nuove chiavi, identificare velocemente, rapidamente e con efficacia le opportunità nuove che si aprono in maniera continuativa. Certo, se io oggi dovessi pensare a un social CEO, sarà un po' anche per i miei interessi un po' più che vanno verso la tecnologia. Penserei a Elon Musk di Tesla, Stefano, che è uno di quelli, come dicevi tu, fumantini, ma molto divisivi, cioè che impostano proprio il loro essere sui social, il loro stare sui social in maniera molto forte e divisiva. Secondo te è un approccio che funziona? Sì. Vediamo se Stefano ha ancora dei problemi su questo. Ci sono un po' di problemi ancora con la connessione. Passo allora a Renato, vediamo se Stefano riesce poi a ricollegarsi. Sì, ti dirò, al di là del caso specifico, chiaramente c'è un cambio di parachutina, secondo me, in questa fase in generale, in cui i brand, le aziende e in particolare i CEO sono chiamati a prendere una posizione e quindi non necessariamente avere un approccio universalistico e condiviso. anche Stefano nel suo libro ricordava una presa di posizione di alcuni brand che hanno abbracciato campagne che non necessariamente avevano, come dire, il riscontro positivo da tutto il proprio pubblico. In questo momento secondo me paga la capacità di prendere una posizione, purché questa sia in linea con il purpose, come diceva Stefano correttamente prima, dell'azienda, il suo posizionamento e il suo ruolo. Probabilmente debordare da questi limiti espone, quindi certamente bisogna pensare bene qual è il posizionamento strategico dell'azienda o del brand e quindi qual è il suo right to say, cioè sei titolato a parlare probabilmente su alcune tematiche specifiche, forse in altre bisogna considerare attentamente se fanno parte del proprio territorio di comunicazione o meno, se c'è una legittimazione condivisa da parte degli interlocutori a esprime posizioni su certi ambiti o meno. È sicuramente, come dire, un elemento da considerare con molta attenzione. Stefano, passo a te, vediamo se ci riusciamo. Social CEO oggi divisivo oppure no? Attento al purpose oppure no? Allora, innanzitutto io prendo una posizione cambio operatore telefonico, che questa è una cosa sicuramente che dovrò fare a breve, cioè fare un webinar così. Se ci fosse qualche social video oppure operatori telefonico. Il nome per conto. No. Esatto, soprattutto di questo in particolare lo saluto caramente. Comunque, al di là di questo, spero che riusciate a sentirmi voi perché io sento abbastanza male. Comunque, perfetto. Sì, allora, mi facevo una domanda appunto rispetto al purpose, no? Quindi sostanzialmente se effettivamente ci sono, cioè i social video, immagino che tu ti riferisca appunto all'ecomicato, sostanzialmente all'Italia. Quindi se incarnano in qualche modo, se portano realmente avanti questo purpose. Allora, sì, il discorso è sempre quello. Allora, prima ancora di misurarle, ok? Quindi sicuramente con le proprie azioni, con le proprie decisioni, prima ancora che con quello che si dice, si fa realmente la differenza. Bisogna fare sempre la cosa giusta, abbiamo detto, per le persone e per l'ambiente. Poi quando lo vai a raccontare, sicuramente bisogna farlo anche nella maniera più corretta, incarnando quelli che sono i valori aziendali, mettendo avanti l'azienda rispetto ai propri interessi personali. È importante anche riferire, prima Renato, alla brand advocacy. Quindi noi non stiamo lavorando sul nostro personal branding, non stiamo lavorando sul nostro placement. Poi, per carità, ci sarà pure qualche CEO che vorrà cambiare azienda. Però in generale stiamo lavorando appunto, siamo dei brand advocate, andiamo a rappresentare quelli che sono i valori, che sono il credo aziendale, quel che è il percorso dell'azienda. E questo lo facciamo appunto, anche quando comunichiamo all'esterno, lo facciamo comunque anche rispetto all'interno. E quindi, ecco, io vedo che effettivamente piano piano, innanzitutto, tornando un po' all'inizio, quello che sta succedendo è anche uscire un pochettino dall'area di comfort, perché questo è sicuramente anche un rischio, no? Che si, di fronte al quale noi comunque ci siamo esponendo anche un po' nudi, speriamo di no, nel senso che comunque chiaramente quando si fa questo tipo di lavoro in maniera durata, si ha un team di comunicazione alle spalle. Qui abbiamo appunto l'esempio di Renato, che ha un'esperienza appunto molto molto lunga nel settore. E quindi, chiaramente, andremo anche a minimizzare un po' questi rischi. L'esposizione appunto, ecco, lì forse era un punto su cui ti volevi un po' focalizzare prima, era il discorso appunto del profili personali versus profili aziendali. Allora, anche lì c'è chiaramente un equilibrio. Non necessariamente bisogna essere online con i propri profili personali. Molti CEO, molti top manager comunicano attraverso quelli che sono i profili aziendali, attraverso il sito internet aziendale. Magari ci mettono anche il volto, come abbiamo visto in molti casi, magari inizialmente nella pubblicità televisiva, appunto anche in enterprise. Questa modalità si sta portando anche sul digitale. C'è poi tutta la parte, magari di cui abbiamo parlato un pochettino o meno, della comunicazione che c'è qui in disposizione rispetto a quei, diciamo, quei media. Quindi non c'è solo la disintermediazione, c'è un po' un insieme della nostra comunicazione. Quindi continuare anche a comunicare a quelli che sono i nodi della rete, in questo caso appunto i media, ma anche nella parte digital PR, a cui comunque piano anche i siti iniziando ad abituare. Cosa significa parlare a un blogger o a un video blogger, a un tiktoker magari rispetto a magari un giornalista professionista? Ecco, anche questa è un'evoluzione a cui piano piano ci stiamo abituando e si stanno abituando anche appunto i manager. Bene, io mi chiedo l'ultima cosa per chiudere questo nostro incontro. Chiedo prima a Renato un consiglio, se dovessi dare al manager oggi che vuole comunicare anche in rete. sicuramente il consiglio è valido a prescindere dalla piattaforma che si sceglie. Ed è quello di pensare bene e riflettere attentamente agli obiettivi che si intendono perseguire, il messaggio che si vuole perseguire, le declinazioni che è opportuno attribuire al messaggio rispetto ai diversi pubblici di riferimento strategici e quindi scegliere il mezzo, le modalità e il tono appropriato sulla base di questo ragionamento. Credo indubbiamente che l'ambito dei social le enfatizzi chiaramente attitudini, capacità, talenti individuali e sicuramente quello della comunicazione immediata e diretta è particolarmente premiato in alcuni ambiti comunicazionali, ma se questo prescinde da una attenta riflessione strategica inevitabilmente non porterà i risultati desiderati. Per cui riflettere strategia ed esecuzione coerente. Mi viene anche una domanda, la comunicazione del CEO non è mai scollegata da quelli che sono i risultati di business, come si potrebbe pensare? Come un po' dici anche nell'intervista al libro di Stefano? È un caso di scuola, nella letteratura di comunicazione e della finanza negli anni l'influenza e la credibilità di un CEO rispetto alla performance finanziaria di un titolo in borsa. Non dico nulla di nuovo, ma indubbiamente come per un'istituzione, così per un'azienda o per un partito politico, la credibilità e anche il peso della comunicazione ha indubbiamente riflessi anche sulla performance aziendale o comunque delle ripercussioni e per questa maggior ragione è opportuna la riflessione. Aggiungo forse una cosa che non è stata affrontata, ma certamente ci sono atteggiamenti e strategie diverse a seconda del tipo di azienda. Chiaramente l'approccio è molto diverso in un'azienda imprenditoriale che si riconosce impersonificata in maniera forse anche più enfatizzata. Stefano ricordava alcuni esempi al direttore di pubblicità dall'imprenditore, dalla figura dell'imprenditore, da un'azienda magari multinazionale, cosiddetta corporation, quindi strutturata e quindi i cui ruoli di comunicazione sono assolti fondamentalmente da manager, quindi non dall'imprenditore. Individuale verso corale, internazionale verso locale, sono tutti elementi che vanno sicuramente considerati in maniera molto, molto attenta e che ognuno dei quali non offre dei limiti, ma opportunità naturalmente, come sempre. Certo. Stefano, chiedo anche a te qualche consiglio, pillola di consiglio per i social CEO, per il resto poi ovviamente c'è il tuo libro che è ben approfondito. Grazie. Allora, sicuramente quello che è il consiglio principale che mi sento di dire proprio rispetto a quello che diceva appunto Renato sull'impatto sulla reputazione è che la reputazione è business. Cercare di pensare sempre a quelli che sono, a quella che è la sostenibilità futura del mondo che viviamo e di cui appunto l'azienda è parte, quindi vederla sempre come una visione, con una visione organicistica dove la sostenibilità deve essere economica, sociale, aziendale, deve essere per tutte le parti in causa. Quindi quello che penso è sostanzialmente che siamo in un periodo di grande cambiamento e dei leader di pensiero, come possono essere i top manager, sono centrali in questo cambiamento. Quindi ci vuole coraggio nel prendere la leadership così come la si prende internamente anche all'esterno. Non aver paura delle tecnologie ma governarle, quindi per esempio non diventiamo schiavi degli algoritmi, cerchiamo di fare in modo che conosciamo bene le piattaforme, ma in prima è l'obiettivo di comunicazione, il messaggio, la conoscenza di quelli che sono i nostri pubblici di riferimento. Come diceva Renato, un approccio strategico ma allo tempo deve essere empatico, aspirazionale, visionario, se siamo dei visionari, se no non ci, non andiamo in area che magari non siamo in grado di gestire, però comunque ecco, bisogna sempre pensare al fatto che se aiutiamo, se supportiamo i nostri staff per loro, poi alla fine ci supporteranno. Se noi rispettiamo le promesse, il nostro business andrà bene proprio perché la nostra reputazione anche perché la nostra reputazione andrà nella direzione giusta. Perfetto, grazie. Stefano Renato, io vi ringrazio, è stata una bella discussione su un tema davvero molto ampio che sicuramente darà modo di riflettere ai nostri spettatori che tra l'altro ringrazio e vi auguro buona giornata. Questo è l'ultimo ciclo degli appuntamenti settimanali di BuzzDogs ma ce ne saranno sicuramente degli altri speciali, quindi vi do appuntamento alle pagine Facebook, LinkedIn, Twitter di Buzzul. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a te Vincenzo, ciao Renato. Grazie a voi.